Mettete a posto le dentiere e facciamo un'altra cena da pensionati. Virtù di zuppa oro gel, ceci le ticchie nere, 7 minuti per fortuna perché sto crollando al sonno. 100 grammi d'acqua, chiudiamo, portiamo a ebollizione questa meraviglia. 7 minuti che partono da adesso. Ovviamente ci sono i suggerimenti golosi perché bisogna sempre parlare come dei mentecatti quando si parla di cibo per rendere questa cosa molto più buona, cioè mettendoci l'olio, il pepe alla fine. E' un po' barare, io il cibo finto lo voglio mangiare così come è pensato pensato, non che ci aggiungo la roba. Ci informano che ci possiamo fare pure la pasta qua dentro e ci informano che i maltagliati all'uovo stanno benissimo. Certo perché se noi avevamo voglia di fare i maltagliati comproviamo sta cagata. Come vedete non mento, suggerimenti golosi e tutto il resto. Trasformazione avvenuta, la ciotola più piccola del mondo, sappiatelo. Un cucchiaino perché così si mangia lentamente o almeno ci si prova perché mi manca il gastronauta. Il gastronauta è di più. Il gastronauta è superiore buono. Vabbè, è buono. E' buono, sa di lenticchia e sa di cioci, che deve sapere. Sì, è un cremoso passato di cicci e fagioli, arricchito dalla presenza di cioci e lenticchie nere intere. E' da qui. Comunque non è male. Hai il pepe nei malagli. No, non lo prendo io. L'ho messo sulle salsicce oggi. Non è male comunque. Certo, è una dose micragnosissima. Però... È una ricca porzione. Quanto è? Mezzo chilo tutto? È tutto mezzo chilo. Una porzione, non so come faccia, Ah, sì, mi raggiungi l'acqua, con 300 grammi. Però non c'è scritto l'inca porzione. No, per fortuna non c'è scritto l'inca porzione. Almeno questo. Sati onesti, dai. Onesti, però, di craniosi. E questa l'abbiamo pagata? Non lo so perché era in un peatissimo, quindi non lo so. Non me lo ricordo proprio questo. Ma è il ciliceo, il sal di ciliceo? Ma sì, infatti, non è niente che non vada. Io non andavo a rischio a mettere sale, perché ne so io di sale c'è, poi dopo bevi. Quindi, mi sembra che sia poco salato, però non lo so. Le lenticchie non sono le mie preferite. Sono minuscole. In teoria, sì, c'è il sale. Non vi facciamo bene a non mettere sale, perché magari non si sente, ma poi dopo compare. Un'altra volta il nasi gorengo ho bevuto tutta la notte. Quello era particolarmente salato. Mamma mia. Comunque, è buonina, però preferisco il gastronauta io. Ho detto, vinci il gastronauta. Comunque, una cena è inutile, va bene. Un fagiolo intero non l'hanno conservato? No, l'hanno passato. Però che ho salato, lo ricomprerei in offerta. Certo. Se capitasse. Non vuoi fare una zippa di legumi in istante? No. Al fine della rottura di coglioni cuocere tutto. Perché i tempi sono molto diversi. Beh, sì, i ceggi, i pagioli, le lenticchie sono completamente diversi. E allora no. Forse se cuoci i pagioli tutti insieme è diverso, di tipi. Ma non lo so, eh. Se devi cucinare tre volte per fare i ceggi, i pagioli, non vale l'altro. non vale l'altro. questo si parte. Nulla. Nulla. Non si sopporta. Mi è venuta voglia di zuppare le pupi, però. Bravi. bravi. Un sette, dai. Andiamo qui a dormire, sono più ore, sei e mezza. Andiamo. Andiamo.